Come promesso, ecco la ricetta della focaccia di Natale di mia nonna Vincenza. Lei la preparava sempre tutti i Natali e finalmente ho ritrovato la sua ricetta, quindi non vedevo l'ora di farla e condividere il video. Io ho fatto metà dose e vi è una focaccia super alta, sofficissima e perfetta da farcire a piacere con quello che più vi piace. Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola e mescoliamole con lo zucchero. A questo punto uniamo il latte tiepido, continuiamo a mescolare e aggiungiamo una parte della farina, il lievito di birra secco, mescoliamo ancora e uniamo il sale e l'altra farina, fino a formare un impasto abbastanza appiccicoso e morbido. Lasciremo lievitare 3-4 ore in un luogo caldo, poi lo trasferiamo su una teglia ben oliata da circa 30 cm. Allarghiamo bene la nostra focaccia e la lasciamo lievitare altri 30-40 minuti, poi la condiamo con olio e sale e la cuociamo in forno. Ecco pronta, una focaccia alta, sofficissima, super morbida e perfetta da farcire con tutto quello che più vi piace che avete in frigo. Secondo me è un antipasto perfetto per Natale, nonna la preparava sempre e vi assicuro che ogni anno andava a ruba. L'unico problema di questa focaccia è che una volta che la iniziate a mangiare non smetterete più.